Nella serata di giovedì 14 novembre, il personale del NOR, sezione radiomobile di Belluno, durante un posto di controllo in via caduti 14 settembre 1944, ha fermato un'autovettura risultata a noleggio, con a bordo tre persone, un uomo e due donne, tutte di origine dell'est Europa. Richiesti i documenti, gli individui si sono dimostrati da subito nervosi ed hanno fatto insospettire le forze dell'ordine, che hanno predisposto un controllo più approfondito del veicolo, in seguito al quale sono state rinvenute quattro borse della spesa, piene di prodotti di vario genere. Alle domande dei militari, i tre hanno fornito risposte evasive e non erano in possesso di alcuno scontrino certificante gli acquisti. Accertato in seguito che alcuni supermercati, uno nel Feltrino e gli altri a Belluno, avevano segnalato a manchi di prodotti, la squadra ha fatto scattare per i tre fermati una denuncia per furto alla Procura della Repubblica di Belluno. La refurtiva monta circa 3.000 euro, per un totale di 400 pezzi rubati. Un'efficace azione di contrasto ai reati contro il patrimonio, ha commentato il Maggiore Giovanni Meriano, comandante della Compagnia di Belluno, può essere realizzata solo con una costante ed attenta presenza sul territorio.